Scade il 31 ottobre il bando per partecipare ai programmi per l'accesso, spazio gratuito e autogestito a disposizione di associazioni e onlus grazie a un accordo tra il Corecom, Comitato Regionale per le Telecomunicazioni del Piemonte e il Centro di Produzione TV RAI. I programmi devono essere prodotti in lingua italiana e possono essere realizzati in modo autonomo o con il supporto tecnico gratuito della sede regionale della RAI e sono trasmessi su RAI3 e Radio 1.